John Belushi e la partita di oggi viene la conferma. Vedremo chi avrà più forza, chi si proietterà verso l'atto finale di Euro 2024, chi si potrà andare a giocare le chance di titolo. Sono con Lelio e Dani pronti per questo attesissimo match. Si gioca tra Spagna e Francia. Non esistono favoriti in una semifinale di campionato europeo, Pierre. Può succedere di tutto in questi 90 minuti e magari oltre. Speriamo solo ne venga fuori una partita aperta, ben giocata e che l'importanza della posta in fallo non pesi troppo sulle gambe e sulla testa dei 22 protagonisti. Questa è la formazione titolare con cui scende in campo la Spagna. In porta Unai Simon, la porta della linea di difesa con Nacho Fernandez. Dani Olmo insieme a Rodri nella zona centrale del campo. In avanti occhi puntati su Morata, schierato come unica punta. La decisione della Francia è di buttare forte sui giovani e dati sui frutti dopo la delusione per la sconfitta dell'europeo nel 2016 in casa. Non si sono fatti abbattere i giocatori come Mbappé, Griezmann, Pouba sono stati gli artefici in Russia del secondo titolo mondiale per i Bleu. Ho l'impressione che vogliono rimanere ai vertici del calcio internazionale ancora per molto e hanno le qualità per farlo. Il tecnico dei Bleu che sceglie questi undici per cominciare il match. Veniamo per la porta. Suomenin si è d'accantè sulla mediana. E davanti Kylian Mbappé, unica punta. Si comincia con la Spagna in possesso di palla. Fabian Ruiz appoggia su Dani Olmo Dani Olmo ha conquistato tutti in pochissimo tempo Mbappé grazie al suo talento e oggi vedremo se ce ne darà un'ulteriore dimostrazione. è in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria ma perché è abilissimo con la palla. Se prende fiducia può risolvere la partita da solo. Ottima parata del portiere. Occhio al tiro della bandierina. Altro calcio in angola a disposizione. Oppite scappare la partita da solo. Corre in aria, spazza via il pallone, Aurelien Suomeni, entra sulla palla e esaurisce l'azione avversaria. Griezmann, Cante, a metri per avanzare. L'arbitro concede giustamente la vantaggio alla Francia. Possono passare in vantaggio, 1-0, si sblocca dunque la semifinale, vedremo come questo gol inciderà anche tatticamente sul match. Il replay ci permette di apprezzare il bel gesto tecnico in occasione del gol, non era affatto semplice girarsi e calciare in porta da lì. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Dani Olmo. Naso Fernandes. Palla per Naso Fernandes. Rodri. Palla che arriva a Rodri. Fabian Ruiz. Palla appoggiata su Dani Olmo. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. Palla alla roca, c'è spazio per il contropiede. Fabian. Buono questo passaggio. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Spagna caccia nel gol del pari, occasione dalla bandierina. Il mister si dispera in panchina. Hanno sprecato l'occasione del pareggio. Servito Dani Olmo. Capisce tutto e ferma l'azione. Griezmann. 60 secondi da recuperare. L'arbitro chiude qui il primo tempo. Si riparte dopo l'intervallo con la trancia avanti di un gol. Vedremo se manterrà questo risultato, se addirittura allarcherà il margine rispetto agli avversari. Entra sul pallone e recupera. Rodri. Avanzano a caccia del momento giusto. Rodri. Ecco Dani Olmo. Fabian Ruiz. Grande tempestività di questo intervento. Possibilità per il contropiede. Sale Griezmann. Occhio a Dembélé. Nuovamente Griezmann. L'ottanta. Palla buona per Pappé. C'è un'altra occasione per loro. Ha salvato la porta con questo intervento. Aurelien Suamenni. Suamenni. Occhio a Dembélé. Ottimo il tecnico in area di rigore. Possono ripartire in contropiede. Valegna metri morato. Ottimo recupero del pallone. Antoine Griezmann. Dembélé. Palla e gol per Dembélé. Palla in zona pericolosa. Il portiere qui dice di no. Finale incredibile. Portiere protagonista nell'occasione precedente. Ma la parata è clamorosa. Devono ringraziare lui se sono ancora in partita. Se fossero scivolati a meno due, i giochi sarebbero chiusi. Cerca il sostegno dei compagni. Azione che può diventare pericolosa. Occhio. Ecco Dani Olmo. Intervento decisivo in area. Ci sono ancora due minuti da giocare. Stanno vincendo e possono dunque permettersi questo tipo di possesso palla nel finale. Baffi. Occhio al cross di Mbappé. Griezmann. Occhio a un pallone importante per chiudere la partita. La chiudono qui probabilmente. La chiudono qui probabilmente. Due gol da recuperare per la formazione avversaria. Adesso hanno la qualificazione nelle loro mani. E il tecnico è fuori di sé per questo volo. Lo vedi dall'immagine. Guarda il motivo qual è. Disimpegno errato dalla difesa che ha regalato la palla agli avversari. E a questi livelli, queste disattenzioni le paghi caro. finisce qui alla fine da Francia a spuntarne, a guadagnarsi il pass per la finale di Euro 2024. 8 anni dopo, troverà a prendersi del titolo europeo. Sfugito contro il Portogallo. Nei semifinali sono sempre partite complicate, come ci ha confermato anche il match di oggi. E il punteggio finale, Pierre, rispecchia il sostanziale equilibrio che si è visto in campo. Entrambe le squadre hanno dimostrato di meritarla, questa finale. Gioro però ci hanno messo quel qualcosina in più che ha fatto la differenza.